Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video A S M R Oggi faremo un po' dell'emozione e dei pensieri negativi che avete Perciò mettetevi in un posto comodo, rilassatevi Cominciamo subito con il video Userò questa pizza per togliere i vostri pensieri negativi Qui vedo un po' di ansia Anzi, anzi, togliamolo subito E via Quindi abbiamo un altro, altro, altro E togliamolo via Rilassati Senti la mia voce E rilassati Rilassati Vedo un po' di preoccupazioni qua Preoccupazioni Per un pazzo Eccolo qua Togliamolo Qua invece abbiamo Sierine negativi Eccolo qua Eccolo 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 Metabolosi Via 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 Vi vedo un po' di frustrazione 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 Togliamolo subito mi do ecco l'occo mi ti amo si 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 rilassati mi raccomando rilassati 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 Eccoli un altro Vediamo di togliere altri pensieri Negativi, negativi, negativi Per rilassarvi Vediamo ancora un po' Qua di togliere, togliere, togliere Eccoli un altro Eccoli, eccoli Eccoli, eccoli Qua ne abbiamo l'altro Sacchi, sacchi, sacchi Un po' di rabbia Rabbia, rabbia Togliamolo Subito 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 Mi raccomando Rilassati 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 L'ultimo L'ultima L'ultima preoccupazione Che dobbiamo assolutamente rimuovere Rilassati 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 Eccolo Eccolo qua Eccolo qua Mettiamolo subito Via 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 Bene ragazzi per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, 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 mettete un mi piace e ci vediamo nel prossimo video, 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 video.